Siamo il 27 luglio e rifaremo alcune scene di divorzio all'italiano in chiave teatrale. E' come quest'anno ricorre il cinquantenario dalla vittoria dell'Oscar di questo film che penso tutti voi conoscerevi. Ricorda dei ricordi legati a quei giorni in cui girarono il film. Il ricorso con le balde, gli esamanti, c'era tutto quel c'era, correre, cose cose. Una donna fiorente, bella, garbata. E tutti passeggiavano sotto il balcone per vederci il basso, il bassofondo. E chi la c'è lì? C'è di caso a finire questa storia. In casa c'erano tanta casa, ora non ci sono più. E via di secco. Ricordo, ricordo questo particolare. Che questo signore, poi lo chiamavano per andare a mangiare. E allora si faceva il bagno. Il costume non è che lo riportavano all'ispica per lo sciacquallo. Lo buttavano e poi si vestivano. Il giorno successivo, gli amici della tromba ci dissi una macchina amare. E loro chiedono se niente la santo nobile, nella via del 20 settembre, che aveva a quell'epoca un negozietto di profumi di barba, e ci veniva un costume al giorno. E loro si vestivano il bagno e poi... ... ... ... ... ...